A partire dalle ore 22 di questa sera, le aree di servizio autostradali chiuderanno per le 48 ore di sciopero proclamato per i giorni 13 e 14 maggio da Fegica Cisla e Fegisc Anisa Conf Commercio. L'obiettivo è denunciare la condizione di emergenza economica e sanitaria nella quale continuano ad essere lasciate le imprese di gestione. Per le organizzazioni di categoria, in assenza di un cambiamento di rotta del governo, la protesta e le chiusure per sciopero sono destinate ad estendersi nelle prossime settimane.